Tutti eccitati per la settimana europea. Shakhtar e Roma giocano sulle fasce come gli anti-juventini gridano al complotto. Con molta frequenza. Under da un metro la tira addosso al portiere, ma la palla in qualche modo entra e il turco è un fenomeno. Florenzi prova ad essere un terzino destro, ma la nonna farebbe più bella figura. Però ha segnato a Barciona da centrocampo, quindi pallone d'oro. Alisson è Gesù, Alisson è Dio, Bruno Perez è Alisson. La Lazio umilia la stiavo a Bucharest e passa agli ottavi. I 3.000 rumeni hanno buttato i soldi del biglietto al vento. Non quello dell'aereo, di quello non ce n'è bisogno. Immobile è Bruno Perez. Il Milan passa meritatamente agli ottavi. Scommessa? Locomotive Mosca. Diciamo che nessun italiano, a parte i milanisti, ha visto il gol di Borini questa sera. Perché questa sera tutta Italia tifava Atalanta. Lo spiraglio del successo si poteva intravedere, ma purtroppo è andata male. Una cosa è certa, contro la Svezia ci avremmo dovuto mandare l'Atalanta di Gasperini. Onore a te, Dea.